Ciao a tutti, io sono Elena e mi trovo da IncoWork di via Friuli. Domenica si sono concluse due sessioni di Coltiva la tua start-up, ovvero due workshop in cui i partecipanti hanno potuto portare le proprie idee, le proprie curiosità, ma anche le proprie esperienze, perché chi ha partecipato erano sia persone che erano interessate a sviluppare la propria idea, quindi in una fase proprio iniziale, in uno stato iniziale, ma anche in una fase avanzata, chiamiamola così, intermedia e quindi hanno potuto portare la propria esperienza per raccontare il dopo, quello che possiamo trovarci di fronte. Ringrazio tutto lo staff di IncoWork per questa opportunità e per i momenti di confronto dove ho potuto apportare le mie competenze e le mie esperienze. Voglio ricordarvi di seguirci sulla pagina Facebook, di seguire IncoWork sulla pagina Facebook, che stiamo organizzando ulteriori workshop, ulteriori momenti di confronto, sempre su temi specifici, quindi verticali, che non dovete perdere.